Vite che parlano? Sì, la vita parla anche da sola. Qualche volta noi facciamo il contrario. Viviamo poco e parliamo tanto. Il mondo virtuale, il mondo digitale può far credere così, per cui entriamo dentro la grande navigazione dove ci sembra che ci sia tutta la vita, ma in realtà è virtuale. La vita vera è un'altra cosa. La vita vera è un'altra cosa. Grazie. 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 Grazie.